La macchina che presentiamo oggi qui a Enovitis in campo in Sicilia è il nostro coltivatore interfilare con lame interceppo per la pulizia sia del sottopianta che per la lavorazione in mezzo al filare. Una macchina completa appunto come dicevo di lame interfilare per fare un'ottimizzazione dello sfalcio dell'erba e degli infestanti sotto al tronco della pianta, del vigneto e può permettere anche tutte quelle fasi di areggiatura e movimento terreno lungo la fila. Una macchina che si compone di pistoni idraulici per l'allargamento e lo restringimento della macchina, raditore di raffreddamento e joystick per il comando direttamente dal trattore appunto di tutte le varie movimentazioni. Può essere disposto di 5, 7 o 9 ramponi appunto per la lavorazione del lungo fila con un rullo posteriore idraulico meccanico a scelta per pareggiare la lavorazione appunto della nostra macchina. Può essere disposto di diverse misure, questa che spendiamo qui quest'oggi lavora fino a 2,80 metri di larghezza massima e poi abbiamo ovviamente anche macchine più strette o più larghe a secondo dei filari dei nostri clienti. Grazie per la visione!